direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 18 luglio il jackpot ha raggiunto la cifra di 15 milioni 124 mila 117 euro e 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora via l'estrazione del concorso numero 68 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincente più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 76 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 80 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 49 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 84 adesso scopriamo il quinto numero capro le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 33 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sostina vincente sesto numero estratto è il numero 18 dopo i sei numeri che segnalo il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sostina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 12 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 76 80 49 84 33 18 numero jolly è il numero 12 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super analotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar di questa sera è il numero 83 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 68 in ordine crescente l'estrazione di oggi sabato 18 luglio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 15 milioni 100 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 68 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super analotto assegna 348 mila 293 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 15 milioni 100 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 16 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 l'unico 5 si aggiudica 188 mila 75 euro i 4 sono 463 e vincono 412 euro ciascuno i 3 sono 18 mila 371 e vincono 31 euro ciascuno i 2 sono 299 mila 672 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate bene 13.964 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella nessun 4 stella i 3 stella sono 72 e vincono 3.135 euro ciascuno 100 euro vanno i 1.253 due stella 10 euro agli 8.762 e 1 stella e 5 euro e 19.699 e 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su per una lotta vi do appuntamento a martedì 21 luglio e giocheremo per un jackpot di 16 milioni 100 mila euro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti